Buongiorno ragazzi, nuovo episodio di Sekiro, allora raga, abbiamo deciso che andiamo a cercare di sconfiggere andiamo a cercare di sconfiggere quel fottutissimo, e dico fottutissimo mostro la sotto, vediamo un po' se ce la facciamo oppure no tanto il nostro punto abilità l'abbiamo acquisito, le monete le abbiamo messe da parte o le abbiamo spese quindi abbiamo ben poco da perdere, vediamo ragazzi che cosa riusciamo a combinare vediamo eh allora ricominciamo da qua ops ho sbagliato scusatemi come un piccio, vabbè preso dalla foca ecco Grazie a tutti. 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 Abbiamo uno solo. No, no, no. 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 ragazzi. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Proviamo a farlo in modo un pochino più... più serio. Proviamo, poi per carità. No, no. 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 Eh, ragazzi, così. Eh, ragazzi, sic breakfast... Proviamo valorene sangria. Hoavocalo per i為... ...mum. Letta ga spreari andare dal categories s'opera in modo Sedan... No, no Santo, sono a sòa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. 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 Ak capacity. Ok. 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 Corazzo. Ok. Ok. Dove cazzo è quello? E niente lo stronzo mi prende E niente lo stronzo mi prende Niente, questa era andata male Perché non riusciva a far fuori quell'altro stronzo Quindi niente, questa è andata così Vabbè, ripeto Meno male E ripeto, meno male Che non me ne poteva fottere di meno Né dei punti esperienza né delle monete Perché le avevo già Messe al sicuro Però, porca troia, che due palle Che due palline ragazzi Che due palline Che due palline ragazzi Che cari Chi caesare Che due palline ragazzi Che cos'è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, sì, sì. Ok. Grazie a tutti. Ok. Ok. Oh, bastardo. Mi ha preso in pieno. Ok. 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 Forse per tanti altri motivi. Ok. 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 Grazie a tutti. Minchia bastardo. Oh bastardo mi ha preso di rimpallo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh ma sempre così you bastard. Ah mi ha preso. Che bastardo. Oh ma sempre. 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 ragazzi è sempre così la prima volta sembra che ce la stiamo per fare e poi ci ammazza in continuazione porca troia che due palle ragazzi che due palle che due palle con 45 monete possiamo comprare un cazzo il borsello pesante c'è ancora che cazzo niente sto vedendo se riesco a vendere qualcosa ancora per comprarmi per comprarmi l'ultimo borsello per essere tranquillo così anche se porca puttana vende acquista tutto ad un cazzo porca troia ma che roba 320 sì 320 più 180 fa 500 però dobbiamo arrivare a 550 così così ok così abbiamo acquistato tutte le cose pure qua le cose che servivano 00000 ci rimangono le compresse che tra l'altro ne abbiamo ancora poche perché le stiamo usando tutte come degli stronzi quindi ragazzi 80 abbiamo detto che ce ne mancano eh 80 quindi vabbè vendiamoli tanto 1 2 3 e 4 ok e poi andiamo upiccio è vero 80 per acquistarne una che coglionazzo che coglionazzo 8 16 24 32 me ne mancano quindi va bene vendi oggetti che due palle ok ok e ok ecco qua adesso si che possiamo dire che abbiamo acquistato tutto alla prossima amico eh assorata che ha bucchino porca troia questa non c'è più un cazzo da dirmi si va bene si va bene solite stronzate ok va bene si 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 ciao ah ciao allora guardiamo un attimo che abilità possiamo migliorare allora acquisisci abilità allora come potete vedere qui siamo messi abbastanza bene perché possiamo acquisire questa o queste qua 3 3 6 potremmo acquisire addirittura 2 oppure qui possiamo acquisire questo strumento prostetico ammezzaria questo sarebbe utile perché quando salti gli dai un accettato in testa probabilmente questo lo prenderò e poi questo che però serve solamente per aumentare il numero di emblemi quindi neanche più di tanto oppure cos'altro abbiamo qua questa roba qua oppure questo nuovo colpi di preghiera L1 R1 R1 colpi di preghiera no L1 più R1 e poi R1 colpi di palmo e di gomito a ripetizione ok abbiamo capito che cosa è sta roba però non so che cazzo possa servire sta cosa io puntavo a qualcosa che potesse essermi utile per gli strumenti prostetici questo è veramente molto utile questo sicuro e di queste questo ti insegna subito un'abilità latente però eh dovrò fare questo quello e poi boh esorcismo tieni poi muto L1 R1 o dopo il colpo di preghiera R1 esorcismo scaraventati contro il nemico sbalzandolo lontano ma ah piacevole sta cosa però hmm i cimongi doppio no i cimongi doppio questo 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 mi serve cazzo gli strumenti prostetici a mezz'aria eh ok uh attenzione accosto 1 beh a questo punto accosto 1 così li abbiamo finiti ragazzi abbiamo sprecato tutti i punti esperienza che avevamo faticosamente guadagnato però in fin dei conti non è un problema in quanto quanto che dire li abbiamo usati bene ok e niente adesso facciamo una prova per vedere ma 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 se vuoi ora cominciamo si è nuovo vabbè questo tempio attrae ok e adesso altra cosa che poi si potrà fare con tutta calma è vedere questi maledetti oggetti prostetici che cosa posso farci con sta roba comunque le monete per migliorare le abilità del mio braccio prostetico ce l'ho quindi possiamo vedere il potenziamento come potete vedere posso potenziare allora posso potenziare un po' qua mi manca un pezzo poi questo lo posso fare e ti da la scintilla lunga che non so che cosa possa fare veramente però va bene dovrei sperimentare con quello lì per questo ci manca un pezzo di quello a fare lì qua ce ne mancano due qua ce ne manca sempre uno alla fine posso fare questo posso fare solo questo ragazzi pensavo di poter fare chissà cosa invece c'è e si quindi quindi tutto quello che potevo fare alla fine è solo sta roba qua che merda vabbè 600 monete andiamo a farci ste 600 monete allora sarà per un'altra volta si certo si 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 aspetta che due palline ragazzi peccato però vabbè a questo punto lo faccio tanto buongiorno allora 600 monete abbiamo detto quindi uno di questi e scusate è uno di questi ok alla prossima eh assorata si 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 abbiamo capito adesso torniamo dal coionazzo guardate il rispetto che mette via la spada serve qua allora qua non possiamo fare un cazzo però possiamo potenziarlo questo qua oh no cos'è sta quando sono ancora tutti completi cosa vuol dire minchia che figlio di puttana mi ha fatto spruiccare la moneta però aspetta c'è questo non è nemmeno questo è questo minchia che piccio ho spruicato 600 monete come l'ultimo degli stronzio che merda bene raga sarà per un alto io ospiterò quando vuoi si si certo è che io se 600 monete poi le perdo lo so eh c'è qualcos'altro da comprare che due palle ragazzi che due palle una cosa proprio beh che roba stressante no perché non voglio lasciare moneta a quei figli di puttana capito ragazzi solo per quello e allora le spendo tutte almeno non ho soldi ma fanculo si certo e siamo messi così niente ragazzi episodio bruttissimo ciao alla prossima